Sono stati oltre 200 ragazzi di età compresa tra i 7 e i 13 anni che con le loro famiglie hanno preso parte alla seconda edizione di Rotta verso Bari. Corsi di vela, canoa e canottaggio gratuiti organizzati dal CUS di Bari con l'amministrazione comunale. Complice la bellissima giornata di sole, il progetto ideato dall'assessorato comunale, lo sport in collaborazione con le federazioni di vela, canoa e canottaggio, i circoli nautici e le associazioni cittadine per promuovere la pratica degli sport nautici e rinsaldare al contempo il rapporto della città con il mare, è stato un vero successo. Un grande progetto possibile grazie proprio alle risorse messe a disposizione dal Comune per favorire l'avvicinamento a questi sport delle giovani generazioni. E' entusiasta per il successo riscosso dalla seconda edizione di Rotta verso Bari, il presidente del Centro Universitario Sportivo, Giuseppe Seccia. Questa manifestazione è fortemente voluta dal Comune e dall'assessore Petrusselli in primis perché cerca di avvicinare i ragazzi baresi allo sport nautici. Ci stiamo aprendo e stiamo cercando di portare quanti più ragazzi possibili a fare attività nautiche, cui Bari è una grandissima tradizione. Non dobbiamo dimenticare che l'anno scorso Domenico Montrone, un ragazzo baresi, formatosi al CUS, ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi in quattro senza. Ma il Domenico è solo l'ultimo esempio dei ragazzi che da Bari sono andati alle Olimpiadi negli sport nautici. Ricordo Cannone, Mauro Giovanni, Delcore, Panzarino. Sono tutti ragazzi che si sono formati, si sono avvicinati agli sport nautici e sono riusciti a portare alto il nome di Bari a livello nazionale e internazionale.